Allora a tutti ragazzi è il vostro Luke E oggi dopo tantissimo tempo come sempre Ritorniamo su Yuppie Lucky Pryson Su The Legend Craft Ragazzi io ultimamente Sto riprovando a portare The Legend Cioè non è che sto provando Mi sto facendo l'idea di continuare Su The Legend Adesso facciamo salutare su Youtube Cioè Youtube e poi ne parliamo Ok dopo aver fatto salutare Youtube Ragazzi inoltre mi sono accorto di una cosa Che mi hanno detto molti di voi Luke ma sai che tu c'hai ancora il VIP vecchio Perché come vedete gli altri VIP Loro hanno la scritta in grande In che senso? Io quando scrivo in chat per esempio A Vedete per esempio Natsu C'è in grassetto perdonatemi Io ce l'ho in piccolo Quindi magari se qualche staffer Soprattutto il nonno Che di solito guarda i miei video Mi può fare questo lavoretto Ti ringrazio molto nonno Poi Dave Boone Mi saluta Ok ciao Luke Ciao Forse non ho visto salutare Youtube Io lo ridico Vieni al mio PH Vento di Anna e 5 mili Eh non la voglio Perché devo venire? Perché? Perché mi dici Non voglio Ciao tu Ok ci sta qualcuno che si è accorto Va bene Ragazzi ovviamente io vi ripeto Qui ormai non è più come una volta Mi cagano di meno sul server Però ho già vi ho spiegato questo fatto Telemodo e non vi voglio assillare ogni volta Perché il piccolo No si sta consumando Maron Eh 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 Non va bene però che si sta consumando Luke 17 Criti 1000 Perché? Perché mi chiedi questo? Diciamo 1000 Anche se siamo quasi 1100 Ragazzi vi ringrazio Davvero tanto Allora non mi ricordo in quale warp C'era Tipo Tipo Il costo degli amanti Luke Perché mi chiamano? Stranamente Il mio regalo Era l'arcoboia Ciao ciccio kong Maron Mi Ok qui ci sono i diamanti Comunque raga Culo ho beccato questo Perché mi serve i diamanti Per curare Per curare madò Il piccone Per ripararlo Molti potrebbero di Luke Ma è più conveniente Andare da qualcuno E fartelo fixare No raga Preferisco di fare così Se rischiate meno Vorreste provare Il nostro tampolino Altro 310 Blocchi E dopo ci vado Secondo me Luke Non è uno youtuber Convinti voi Barba triste Vai su Eh beh Mi sta a spammare Che vesto a di Che vesto a di No Luke Fai video su YouTube Su YouTube Si giusto Giusto Mi hanno riconosciuto Cazzo Devo scappare Comunque Piccone Pum Oh No perché? Non c'ho manco un cazzo di livello E noi andiamo prima a scavare Allora Visitate Il mio shop Vendo forchette Allora Voglio vedere Quello la che diceva Del trampolino Raga Così andiamo a fare qualcosa di interessante Oggi Vorreste però Leo Pix09 Ricordiamocela Mi regalo di arco boia E ti ho ringraziato Eh Si lo so E grazie mille G-Chiang Per il tuo bellissimo regalo Che apprezzo molto Però dobbiamo riandare A quel warp Warp L Fare un po' di livelli E poi tornare A madonna mi Con di problemi E voglio pure andare a vedere Quello la che fa il trampolino Ricordati In un video Sto già ricando Pep Cicciogong Sto ricando Ok Posso andarlo A riparare Che bello Posso andarlo A riparare Oh Perché ci sono le mosche Oggi Che mi fanno gli assalti Non puzzo Non puzzo manco Mi sono appena Fatta la doccia Vabbè Ehm State qua Scusi Allora Voila Voila Maron Amici Raga Riparato E un gentleman Costo 3 E io C'ho 0 Ma che chezza è successo Raga Ho perso Vabbè Vedremo dopo Anzi facciamo così Siccome devo andare da quello la Col trampolino Faccio così In modo che non perdo nulla Ehm Odimi Come si chiamava quello Leopix Maron Leopix Le Eh Pianca Leopix Come Don't have plot Iroge strums Ma non è che devo dare un altro Pianca No Raga Mi hanno spammato la chat Quindi non vedo più niente Ehm Ehm Raga Volevo farvi dell'illusione ottica Aspetta Raga Un attimo che glielo chiedo Raga Io do un po' che aspetto Ma Leopix Non risponde Comunque intanto Vediamo la roba Magari Vediamo un po' Ah Scusate Mi ero dimentica The cell Sorry Ok Ho fatto manco un milione Però dettagli Vediamo se ci sono regali Regalo per l'illusione Raga Dove le mette Allora Io vi voglio benissimo Quando fate così Che mi date regali Però Non mettete regalo speciale Per l'illusione 17 Mettete soprattutto Il vostro nick Perché se no Non posso aggiungervi Bacchè Che per me Non ci sono dubbi Perché appunto È il mio piacca Regalo da terdo Ehm Non si fuma Bravo terdo Allora Andiamo a vedere qui Se ce ne sono Ovviamente 40 ceste di regali Bye fedi Ok Grazie raga Comunque per tutti questi regali Piac dark daddy Ma TP da me Perché lui è andato Va bene TPA Leopix Ragazzi ma vedi sto trampolino Ve lo faccio vedere nel video Allora Chiuso Ultimi accessi Altezza 310 blocchi 310 blocchi Maron 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 Uhuh E qual è l'effetto ottico Uh 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 E qual è l'effetto ottico No Strunz Strunz Fammi No Strunz No vabbè è una figata però Non ho capito qual è l'effetto ottico Ok Fino a qui ci siamo Però che palla Devo fare sempre questo qua TPA Oh Vediamo un po' cosa c'è scritto Altezza 310 blocchi Fino a qui ci siamo Però l'effetto ottico Non l'ho capito È bello sicuramente Ma l'effetto ottico Non l'ho capito Maron Ah forse dovevo Vabbè L'hanno provato a creare L'effetto ottico Ragazzi ovviamente Fatta a mano Non sto dicendo che Hanno fatto schifo Anzi io non mi metterei proprio A perdere tempo A fare una cosa così Però loro Ci sono impegnati E hanno fatto Questa cosa che è figa Abbastanza Mui gli chiedono L'ultima volta Ti piazzano Quello mi dice Basta Non ce la faccio più Strunz Eh si roba Quindi Attenzione Uh 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 Eh Maron Mi però Sei lag Cazzo Sì Lag Cazzo Cazzo S'è lag Cazzo Sì Ah per risalire Quindi mi devo fermare Ah così non rompo più Cazzo A quel Cazzo Sì Allora Vediamo un po' Se riesco a trovare Oh quanto è bella strada Però ragazzi devo ammettere Comunque hanno fatto un progettino Abbastanza bello Ci sta chi pensa Di arredare Cazzo No Ma come No raga Non ci posso credere Ah quindi sempre Ti piava Per arrivare là sopra Cazzo Sì Allora Vediamo un po' Eh Per fare Il trampolino vai Hooper Per fare il trampolino Vai qui E che cazzo devo fare qui Scusi No Coppa Le piccone Dia Schifosi Che significa Non lo so Se apro Ah la porta La posso aprire Però non posso salire Ma lo dice Stupido Signorina E' un po' Stupida Allora Noi dobbiamo Vedere un attimo Perché non mi fa Fixare il piccone Intanto Perché è davvero Una cosa insopportabile Sapete com'è Avere un piccone Così importante Lì senza Che uno lo può fixare Ti far girare Un po' Eccolo qua Perché ragazzi Ripeto Molte cose Di look Tu vai a fare il fix Va a fare il fix Te lo fixano E te lo fixi Raga Io non voglio rischiare Perché il piccone Più forte Che si trova sul gioco Ringrazio ancora una volta Chi me l'ha regalato Che mi dimentico Sempre chi è Perché E' un piccone del boia Escavation 2 E inoltre Dove anche farmi cambiare L'incandamento Del boomerang Perché hanno detto Che siccome non andava bene Dove essere cambiato Cosa che non ho fatto Perché sono stato inattivo Come per la storia del VIP Però va bene Quando sarà possibile Ma lo farò cambiare Allora ragazzi Scaviamo in modo Da farci più livelli Perché non capisco Il motivo Per il quale Non me lo fa fa Eh vabbè Sì dovrei vende Però dettaglio Ok Andiamo al pianco E vediamo Se adesso fai Angle lo strunz Ok andiamo 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 Putta Andiamo Ma perché c'è un pochino qui Facciamo i ricconi Dai facciamo Eh sono ricco Sono ricco Allora buttiamoci questo qua Buttiamo questo qua E costo 3 Ah Sì Allora raga Prima era un piccolo bug Però Ce l'ha risolto Che schifo Cazzo Non l'ho rinominato come si trive Cazzo Adesso fai schifo Cazzo Vabbè Ragazzi non fa niente L'importante è aver riparato Sto piccone Che era il più importante Di oggi Che non vuol dire un gazz Quello che ho detto Però voi accontentatevi Della mia italianizzazione Che non vuol dire ancora più un gazz Comunque ragazzi Vediamo la roba Io spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Ragazzi Vi consiglio Di spammare un po' Tutto quanto il video Su Facebook Su Google Su Qualsiasi piattaforma Su Twitter Su Telegram E ragazzi a parte gli scherzi Vi invito di lasciare like Commentare il video Condividerlo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima Mi dispiace che sia durato poco Però ce ne saranno altri Altri Vabbè sì Altri molto probabilmente Ci si becca alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti.